Buongiorno a tutti da Daniela. Tu sai come differenziare il tuo aperitivo per fidelizzare la tua clientela e non cederla alla concorrenza? Pensi sia impossibile? No! Affidati a noi, gli specialisti dell'aperitivo perfetto. Renderemo il tuo momento dell'happy hour speciale, diverso e perfetto. Il tuo cliente vuole un prodotto genuino, gustoso, che si lasci mangiare con gli occhi e che stuzzichi l'appetito. Tu hai bisogno di un prodotto pratico, veloce e versatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Noi abbiamo il prodotto che soddisfa tutte queste richieste. I fusi cotti e aromatizzati AIA, fusi di pollo cotti e aromatizzati solo da reinvenire. Tre vantaggi, prodotto di qualità, garanzia AIA, prodotto pratico, massimo 7 minuti con microonde, prodotto gustoso, impossibile resistere. Cosa aspetti? Dai una svolta al tuo aperitivo, rendilo perfetto e li puoi utilizzare anche per una perfetta pausa pranzo. Contatta il referente o chiama il numero verde. Ciao a tutti e alla prossima!